Due tacchi inaugurati questa mattina la Santissima Annunziata con il sindaco di primio presso il pronto soccorso e radiologia. Ieri quel riconoscimento dal governo, se vogliamo, dimezzata la spesa sanitaria rispetto al 2007, ridotta la lista d'attesa. Una sanità che funziona? Funziona, funziona meglio di quello che era il passato. La sanità non tanto, non parlo, non mi riferisco tanto alla lista d'attesa che non è così. L'Ansa ha riportato una notizia sbagliata, io dicevo che il 50% è la spesa regionale che è inferiore, cioè noi spendiamo la spesa pubblica, abbiamo ridotto la spesa pubblica del 50% rispetto a quello che l'Abruzzo spendeva a partire del 2007. Per quanto riguarda la sanità io dico questo, noi stiamo dimostrando che il sistema sanitario pubblico di stampo universalistico è sostenibile, cioè non è destinato inevitabilmente al default. Può essere sostenuto, si può fare buona sanità con i conti in ordine e questo ce lo dimostrano d'altra parte le regioni dalle Marche in Su. Se fosse vero che chi spende di più ha una migliore sanità, le migliori sanità dovrebbero trovarsi in Calabria, in Sicilia, in Campania, in Molise, in Puglia, nell'Azio. Invece come vedete si trovano in altre regioni dove sono stati molto attenti ai conti sanitari. L'Abruzzo è oggi una regione di cui ha ricevuto un premio nazionale di fede a sanità, sono stati 200.000 email che sono stati mandati, 70.000 risposte. Guardate un po', diciamo a Borghezio che l'Abruzzo non è più un peso per gli italiani, come diceva Borghezio, bensì è una regione che viene premiata a livello nazionale per aver migliorato, aver eliminato sprechi e privilegi, ma ancora ce ne sono tanti da portare avanti, e aver assicurato un miglioramento del servizio sanitario. Quanto è migliorato? L'Abruzzo sarà la nona regione italiana nel 2013 ad assicurare i livelli essenziali di assistenza. Oggi ne sono solo otto, faccio questo pronostico, che è una sorta di promessa, come quando dissi che avremmo ridotto le tasse e oggi le stiamo riducendo, che l'Abruzzo sarà la nona regione italiana ad assicurare i livelli essenziali di assistenza. Questo vuol dire che prima non lo faceva e l'abbiamo fatto con l'equilibrio sanitario. Io penso che la strada sia quella buona, questo ci permette di investire in macchinari, ci permette di investire in professionalità. I benefici si verranno nel medio termine, perché? Perché i transatlantici girano col tempo, non è che sono un mato scafo che girano velocemente. Tagli nel trasporto pubblico, bisognava fare la benedetta fusione in questa regione tra le tre principali società e invece oggi l'Assemblea dei Soci di Arpa è chiamata ad eleggere il quinto componente del CdA. Cosa è che non ha funzionato e non funziona? Che non è giusta questa correlazione, è assolutamente strumentale, non da parte sua ovviamente, ma da parte di quelli che lo dicono, non c'entra niente. La fusione è un percorso che, sempre detto, si fa se è conveniente per gli abruzzesi, per le casse degli abruzzesi, non se è conveniente per gli abitanti del palazzo, sia chiaro. Questo lo deciderà il Consiglio regionale dopo aver visto che la fusione, per esempio, ci saranno un certo numero di esuberi e questi esuberi dovranno essere presi in considerazione. Non è che poi si possono pensare che gli esuberi si rende una cosa, per renderla più funzionale ed efficiente, poi gli esuberi magari vengono scaricati sulla regione, stiamo sempre lì al punto di partenza. Quindi questa fusione non c'entra niente. Il Consiglio di amministrazione invece, c'è un Consiglio di amministrazione che non è completo e il fatto che non sia completo prende anche in considerazione il fatto che possa essere completato il Consiglio di amministrazione. Ma ciò non toglie, non significa che la fusione non si fa, anzi, la fusione si fa a certe condizioni. Naturalmente a quel punto il Consiglio di amministrazione decade, però tenga conto che è un Consiglio di amministrazione incompleto. E quindi Consiglio di amministrazione, quando si fanno di un certo numero di persone, perché magari ci deve essere la disparità, non si fanno di quattro, magari si fanno di cinque. Se poi restano di quattro c'è un sistema di funzionalità che può essere inferiore. Quindi detto questo non c'è nessuna correlazione. Chi la mette in campo o lo fa in maniera strumentale o lo fa perché vorrebbe nominare un altro. Sta ancora cercando casa a Roma? No, non ho mai cercato casa a Roma. Io faccio il Presidente della Regione Abruzzo, la opero come se dovessi esserlo per i prossimi 15 anni, anche se magari poi gli elettori non ti rileggeranno, però questo significa investire nel medio e lungo termine e non essere condizionato dal ciclo elettorale. D'altra parte, questa è la differenza che passa secondo me tra un politico e quello che invece è il tecnico della sopravvivenza del consenso elettorale. Io non sono un tecnico della sopravvivenza del consenso elettorale, però spero di poter portare l'Abruzzo ad avere un riconoscimento nazionale come sta avendo e gli abruzzesi possano essere più fieri. Il risanamento non è solamente finanziario, il risanamento è anche etico e morale. Oggi l'Abruzzo non è considerato come una classe dirigente che fa delle questioni dell'illegalità magari in una consuetudine o che addirittura usa la spesa pubblica per alimentare le proprie clientele.